Marco Zambrano Ale będę Marco Zambrano Bo ja mam Polkę, żonę Ale musimy czekać jeszcze trochę na wymianę nazwisków A czym musicie czekać? Jakieś problemy u rządu? Nie, 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 tak jest. Po trzy lata będę pół włosko, pół polsko, nie? Język jest jeszcze problem dla mnie Ja uczę się jeszcze Po prostu nie łatwo dla mnie Może mój problem Wiedziałem, że jest dużo ludzi włoskich Nie tylko Bardzo dobrze mówią po polsku Ja, teraz mam standardowe level Muszę się zmienić w angielsku Jeśli nie mogę mówić po polsku Tak jak w tym momencie Ale próbuję Nie zrozumieć Przez mówić angielskie Na pracy Na przykład Bo Znaczyłem 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 Właśnie Znaczyłem To jest bardzo trudne dla mnie Ale Wydaje mi się W kilka lat Wydaje mi się Tak, tak Pracowałem Najpierw Zrobiłem kurs I dalej Pracowałem w restauracji I Jeszcze w pizzerii Normalnej pizzerii Nie taki tutaj Teraz Był taki sklep Ale Pizza zrobiłam Po prostu Cały czas Wydaje mi się Na razie I więcej Dzień Wydaje mi się Wydaje mi się I Jeszcze Nie ma też Znaczyłem I st低 Wydaje mi się Ida Znaczyłem Szczyte Wydaje mi się Istali Znaczyłem 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 I Trenci che ci sono molte persone chiedono, non è facile. Ho pensato, ok, proviamo. La mia mogra è la mia figlia, la mia mogra, era polizia. E mi ha detto, no dobra, proviamo, 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 non mi piace, ho sempre una casa, mamma, 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 se sarà male, posso tornare. Ma è bene, è bene, è bene, qui ci sono, è stata un'occhia, non? Lei, anche, dopo l'inizio, mi ha detto, io anche voglio provare in Polo, magari ci sono le possibilità. Lei studiata per la storia di arte, e in Italii abbiamo tantissime arte che studiare, ma qui ci sono tantissime possibilità per questo. ho messo la mia figlia 8 anni fa in una demonstrazione in Roma. C'era una demonstrazione per handicappi, persone con handicappi. e avevamo comuni che lavoravano su questo problema. Ci sono qualche pieno di del governo. e stavamo in una demonstrazione in fronte del Colosseo. E ho conosciuto e non ho capito che era Polo. Perché ha parlato molto bene in Italia. in Italia. Ma per me non è un problema. Ma per me non è un problema. Ma per me non è un problema. è un problema. Per me è un problema. Mi sono riusciti con lei. E da che siamo insieme. all'alcoho. Questo è molto diverso tra noi. Ma quando c'è una cosa devi piacere 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 e noi preferiamo piacere vino mentre mangiamo. Non ho mai visto piacere vodka in Italia in una festa. Ma ok, non è un problema, questa è la tua tradizione e lo rispondo. Mi piace anche, ma sono i primi due festa che ho fatto qui e qui ci sono un po' di cazza. Non ho visto molto in questa città, in questa città ma ho sentito qualcosa di questo. Non lo so, perché conoscivo così pocani persone, solo per il mio lavoro e per la mia amica amici. In una strada, in una stessa, non è una fobia, magari qualcosa di interessante, Ancora ci resta molti stereotipi, e questo è un problema di tutte le parti del mondo. E' un problema di solito, credo. Un'altra volta, in un'altra pizzeria, ho parlato di qualcosa, ma non è sicuro, non è sicuro perché non ho capito, quindi dicono che magari ho ricevuto alcune parole, ma non è troppo difficile per me. Quando i bambini siano raggiunti, questo paese non è molto diverso da me. La prima volta, la prima cosa, magari, è che i bambini sono diventati a vivere con un po' pieno. In il nostro paese, in Italia, ci sono più soufferti, perché è molto lungo, in cui la maggior parte della popolazione non ha il pieno. Allora, in questo momento, Polonia è crescita come un paese economico. e vedo come quello che ha fatto, come quello che gli italiani hanno fatto, magari in 90 anni, quando si cresciva come un paese, puoi comprare la seconda macchina, magari la seconda macchina. e questo è interessante per me, perché è come un film di remake. e vedo anche i due problemi che si cresce dopo questo. Per esempio, la fede, che puoi dare alla sua politica. e vedo anche i due problemi, per esempio, con l'immigrazione. Per esempio, se ci sono molto money in Polonia, alcune persone sono immigrati qui. e adesso vedo la risposta delle persone e delle politiche di questo. Il problema è sempre lo stesso. Dicono che i migranti stavano i nostri lavori, ma non è vero per me. non è vero per me, non è vero per me. Per esempio, sono venuto qui, mi hanno dato un lavoro, e sono stati felici per me dare questo lavoro. e credo, se avevo tantissimi skillsi per questo tipo di lavoro, e faccio pizza per la mia vita, e sono un pizzermano, non potrei trovare un lavoro. Questo è tutto. Se un polegio poli vuole fare questo lavoro, come me, al stesso livello, è ok, ma non potrei dire che sono poli, e ora posso ottenere il vostro lavoro, perché sono poli. È lo stesso in Italia. Per esempio, con gli africani, gli serbiani, gli albani. È lo stesso. È lo stesso con i poli, anche con gli italiani. Ma per me, il mondo è aperto, le persone sono liberi, e possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Se possiamo. E se voglio stare qui? Per il momento, sì. Ma penso che tutto cambia. Non lo so, cosa è il futuro. Non lo so. 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 Biavistock è una buona città, con buoni persone. Non c'è il traffico. Non c'è il mio giro. Inoltre forse, solo, anche piccolo. only il lavoro in cui riesco parla da un tempo. Wow. Non c'è birre congelo. Sperti totalmente solo solo la parola. E questo è semplice. Mi sono troppo molto resto dole. È così le domene, ja la fordita sempre e c'è molta natura in questa città e mi piace, mi piace, è una buona stessa, io sono bene qui, ma non so cosa farò in futuro.